Ben ritrovati con un nuovo appuntamento della rubrica settimanale Antenna Sport da più di vent'anni in vostra compagnia in collaborazione con Telegolfo, Sportpontino.com e Raf1035.it da sempre a cura di Felice Giorgio Pantanella Siamo con una nuova puntata di Antenna Sport vediamo subito i risultati classi del campionato di eccellenza Girone B siamo alla quindicesima giornata vediamo appunto Forme Calcio che perde 2-0 in casa da Cittadinani la Montesampiaggio pareggia in casa dell'Unipo Mezzia 1938 e ancora Gaeta batte di misura Fiorentino 1-0 e infine Terracina pareggia in casa contro Roccasecca 1-1 la classifica dopo appunto 15 giornate vede comandare l'Unipo Mezzia che rimane intatto il distacco da Terracina visto che entrambi hanno pareggiato 30 punti per il Terracina in realtà 24 sale Montesampiaggio 16 che comunque un punticino va sempre comodo Cittadiformia 10 punti chiudere la classifica da Fiorentina con 3 punti Partiamo dal campionato di eccellenza e dal Cittadiformia per noi da Formia il corrispondente di Latina editoriale oggi Paolo Russo arriva un nuovo delicato confronto interno per il Cittadiformia nella penultima di andata Regione Bida Eccellenza e Biancosuri ospitano a Maranno alle 11.30 l'Allo Digiani la squadra in questo momento a quarto posto della classifica che è uscita rilanciata da due vittorie interne di fila un Cittadiformia che dal canto suo è il terzo ultimo in un momento di grande fermento come dimostrano anche le operazioni di mercato portate a termine con l'arrivo o meglio i ritorni del difensore medice dell'attaccante Cacciottolo è un Cittadiformia che dal canto suo dopo aver avuto la buona notizia dalla conferma del risultato ottenuto a Certosa uno a uno con la conferma appunto del risultato e la negazione tra virgolette del reclamo presentato dalla società romana esce leggermente rinforzata dopo la sconfitta di Anani e adesso in attesa di affrontare Nettuno e Roccasecca che saranno due confronti diretti assolutamente delicati e non sbagliare i formiani dal canto loro puntano dritti all'obiettivo che è quello del risultato casalingo non sarà una gara facile con la 12 anni però i formiani sicuramente adesso hanno tutte le carte regola per provarci fino in fondo è arrivato il momento per la SD Gaeta 2010 per noi da Gaeta Erasmo Lombardi di Perna campionato di eccellenza laziale penultima giornata del girone di andata a SD Gaeta che rende visita ad Aprilia al centro sportivo Primavera sarà un Gaeta arrabbiato per la sfumata qualificazione alle semifinali di Coppa Italia una qualificazione che l'ASD Gaeta avrebbe ampiamente meritato nel computo delle due partite giocate contro il Terracina 0-0 a Terracina, 2-2 a Riciniello peccato, occasione sfumata per cui adesso i biancorossi di Mister Bancone devono indirizzare tutte le loro energie al campionato il secondo posto proprio del Terracina è a soltanto 6 punti quindi Gaeta che si può giocare certamente per tutto il girone di ritorno la chance di arrivare alla posizione utile per i playoff il campo ha dimostrato che il Gaeta non è inferiore al Terracina anzi probabilmente avrebbe come abbiamo già detto meritato di passare per cui 6 punti non sono tantissimi e il Gaeta ce la può fare ad arrivare al sogno della società dei tifosi quello di disputare almeno i playoff per la Serie D perché al momento l'unico Mezzia sembra imbattibile dunque domenica ad Aprilia centro sportivo Primavera ASD Gaeta sedicesima giornata d'andata del campionato di eccellenza laziale un saluto a tutti voi da parte di Erasmo Lombardi di Perla Siamo di Terracina 1925 per noi da Terracina il corrispondente Angelo Marzullo Domenica mattina il Terracina affronterà in trasferta il Torsapienza la squadra romana una squadra che tra le muramiche si fa rispettare è una di quelle poche squadre che ha fermato la capolista Unipo Mezzia ricordiamo qualche domenica fa la squadra delle Unipo Mezzia la capolista vinceva per 2 a 0 nella ripresa per la Torsapienza è ritornata pareggiato per 2 a 2 quindi Mauro Pernarella allenatore dei bigrotti sa che la partita è molto difficile e complicata anche perché il Terracina non sta attraversando un buon momento avviene da 6 pareggi consecutivi 4 in campionato e 2 in Coppa Italia anche se l'ultimo pareggio quello di mercoledì scorso a Ricinello di Gaeta 2 a 2 con la squadra bianco-rossa locale è stato un pareggio tutto sommato positivo perché ha consentito al Terracina di passare il turno e di arrivare in semifinale di Coppa Italia della Regione Lazio quindi il mister Pernarella recupera qualche uomo in queste domeniche soprattutto in campionato è mancato Carlini e questa squadra è Carlini dipendente e ora ci sono anche dei nuovi innesti già mercoledì ha esordito il nuovo centrocampista Pesce e la novità più importante sono le dimissioni del direttore sportivo Susini e l'arrivo e ritorno in casa bianco-celeste di Emanuele Germano già ex giocatore e quindi il direttore sportivo ora che affiancherà Pernarella in questa sessione di mercato per vedere di puntellare un po' la rosa del Terracina molto deficitaria soprattutto al centrocampo quindi già l'innesto di Pesce ma sicuramente arriverà qualche altro giocatore dicevamo di questi quattro pareggi in campionato ora il Terracina deve provare a recuperare qualcosa perché sono sette punti di stacco dalla capolista domenica c'è stata una grande occasione con il Rocca Secca visto che l'Unimo Pesce aveva pareggiato in casa con il Montesambiaggio questa occasione è stata persa perché il risultato è terminato sul 1-1 tante occasioni soprattutto per Bellante nel primo tempo poi la rete del Rocca Secca splendida con l'altro Carlini e poi il pareggio su rigore sempre nel fine del primo tempo di Fioretti ma il Terracina nella difesa non è riuscita a spondare quindi un pareggio in modo positivo per il Rocca Secca e l'amare in bocca per la squadra di Pernarella che è rimasta a sette lunghezze dalla capolista di Prometto intanto domenica mattina si tenta il tutto per tutto in trasferta per questo nuovo incontro a Tor Sapienza-Terracina Chiudiamo la pagina del campionato di eccellenza con il Montesambiaggio per noi da Montesambiaggio il direttore generale Giulio Rizzo ad oggi sappiamo che i fanelli è formato per somma di ammunizioni non ci saranno domenica recupereremo Faiola e Giuseppe Parisella Nel frattempo stiamo cercando di sistemare la rosa e trovare qualche ragazzo qualche giocatore per rinforzare la rosa e far sì che è più ampia domenica abbiamo fatto una grossa partita contro una grossa squadra guardando anche chi aveva a disposizione aveva due squadre in campo ce l'abbiamo messa tutta abbiamo lottato, sudato, contrastato, corso abbiamo avuto più di qualche volta l'occasione per andare in vantaggio poi abbiamo sfruttato un calcio di rigore netto e abbiamo preso un gol su punizione che si poteva evitare non era un gran tiro però va bene poi secondo me c'era un rigore su sbaraglia alla fine e qualche giudizio dell'assistente delinio non dico l'arbitro l'arbitro è una grande personalità bravo qualcosina qualcosina se sta da rivedere ma ci può sta ci può sta sono umani anche loro accade come sbagliamo noi sbagliano i ragazzi ci può sta una giornata di valutazione su qualche su qualche fuori gioco su qualche valutazione troppo affrettata se fa qualche errore va bene questo fa parte del gioco senza recriminare nulla l'unica cosa che mi dispiace è che abbiamo fatto una una grossa partita poi alla fine stava degenerando per qualche parola che si dicono i giocatori poi entrano persone che non stanno in lista dentro il campo dentro il tunnel vieni vieni tra virgolette mezzo aggredito perché un ragazzo ha detto una parola poi se andiamo a pesare da parole ci sono state dette tante come succede poi quello più saggio più intelligente noi addetti ai lavori dirigenti educatori dobbiamo essere i primi a calmare è stato un brutto episodio ma l'unica cosa che mi dispiace lo dico perché tanto non mi interessa sono obbligato a dire la verità una partita che si dice se gioco a porte chiuse andate a vedere le partite che c'è la possibilità di vederle in eccellenza 60 persone di loro in behivers di noi a strilà noi non facciamo né i tifosi come parecolamente il campo è pieno ci rivolgiamo alle forze dell'ordine e dicono ma non è di competenza nostra è di competenza di un commissario di campo si fanno la multa e vai avanti e che non ha senso tutto ciò se una squadra deve giocare a porte chiusi deve stare un controllo anzi il commissario di campo dovrebbe essere i primi a stare là in questi campi qua perché non è ma non è per attaccarti a chi però tu non fai venire i tuoi tifosi quei 30 ragazzi che vengono a sostenere a cantare sta vicino alla squadra poi ti trovi a porte chiuse 60 persone di loro persone che entrano dentro il campo entrano dentro il campo senza essere stati messi in lista ma l'albitro l'avrà visto l'assistente anche questi episodi un po' negativi non mi sono piaciuti poi dal resto la partita la poteva vincere Pomezza la potevamo vincere noi è finita in parità va bene così abbiamo mosso la classifica ma abbiamo avuto un atteggiamento autoritario loro non si sapeva che squadra sono e hanno dei giocatori forti forti un bel gruppo solo che a volte bisogna sapere accettare anche anche il risultato in campo penso che sia la cosa più giusta accettare e rispettare un po' gli avversari rispettare il tutto e noi più grandi ripeto dirigenti addetti ai lavori educatori dovremmo essere i primi a placare gli animi adesso stiamo preparando questa partita con l'Ardea non sottovalutiamo niente perché l'Ardea comunque fa sempre gol Policasa va in vantaggio è difficile è difficile ribaltarla non si pensa che si guarda la classifica perché non si guarda più a niente guarda il Ferentino come si è rinforzato è una squadra la big come le so tutte e l'Ardea è una buona squadra bisogna sempre essere concentrati è un campionato tosto un campionato che ogni domenica è una battaglia non esiste la prima con l'ultima se guarda la classifica no la prestazione la concentrazione bisogna fare bene e noi siamo pronti per questa battaglia cercate a far bene grazie e buona giornata a tutti andiamo al prossimo turno sedicesima giornata quindi alle porte del festività natalizie vediamo il Gaeta che andrà fuori casa contro il centro sportivo primavera Ferentino se la vedrà comune di Palazzo Terra Cina contro Pagazzo con Stapienza Picauro con Leferro Vissezzi Nettuno Città di Fornia Lodigiani Atletico Pontigna Certo Monti San Piaccio Racing Ardie Rocca Secca Città della Promozione Girone e in questo caso siamo alla tredicesima giornata Battuta Città di Reno in casa dell'Arce Battuta Manzi Giovanni Nitre contro la capolista Real Cassino quindi si sperava in qualcosa ma invece niente alla parte Vinci invece Santi Cosmo Damiano 1-0 contro Anit quindi Pacifica che vede Real Cassino 33 poi c'è Arce 27 Latina Borgoniti 24 Santi Cosmo Damiano 21 l'altra formazione di nostro interesse che appunto Città di Reno 9 punti ma anzi inizia ancora a 5 punti ultima inca giornato di promozione eccoci a parlare del Città di Lenola per noi da Lenola Gian Gabriele Mattei non va oltre il pari interno del Città di Lenola contro il Principato di Colli nell'undicesima giornata del campionato di promozione Girone un 2-2 amaro questo ottenuto dalla formazione di Tauretti che si è vista beffare a tre minuti dal termine dalla rete di Campoli dopo che è stata la squadra vengolese per due volte il vantaggio ad essere rimontata dalla formazione ospite partiva bene la squadra di Auretti che con il nello attaccante Chacon al 22esimo del primo tempo si trovava il vantaggio secondo gol consecutivo per l'attaccante argentino arrivato da poco dalla squadra lenonese che già la seconda marcatura in altrettante gare sin qui disputanti che sicuramente potrebbe essere una risorsa importante da qui alla fine nella ripresa le emozioni migliori di questa partita perché Spila trovava il pari al quindicesimo del primo tempo poi Bangura dieci minuti dopo riportava in avanti il cittadileno con un bel un bel colpo di testa e nel finale la beffa con Campoli che sfruttava una disattenzione difensiva e realizzava il parigio definitivo per la formazione del Principato di Colle un punto che muove la classifica fa muovere la classifica per la formazione di Enro che si porta a nove in classifica ma Masticamaro come abbiamo già detto la formazione di Auretti che poteva avere sicuramente miglior sorte da questa gara partita che poteva essere sua però rivediamo il terzo pari consecutivo che conquista la formazione lenonese in altri tanti incontri dopo il pari contro il città di Monte San Giovanni Campano il pareggio tra la domenica scorsa San Giovanni in carica all'ultimo respiro adesso il pari per 2 a 2 contro il Principato di Colle è un punto che muove la classifica serve più agli ospiti che si tengono distanti nella lotta per non retrocedere il cittadino ne resta ancora impelagato con i 9 punti finché conquistati e poi bisognerà vedere cosa succederà dopo chiaro che manca la vittoria da molto tempo per la squadra di Auretti cercherà sicuramente di venire fuori da questo momento difficile condizionato anche per via di alcune vicissitudini societarie ma anche da vicissitudini a livello sportivo che cercherà quantomeno di risolvere ci riferiamo soprattutto alla questione Montenero e la questione Stelparo che ovviamente ci si attende una novità perché la questione Montenero la città di Reno cercherà con il ricorso il prossimo 6 dicembre di far valere i propri diritti e cercare di rimediare il punto che aveva conquistato sul campo del Montenero e poi ci sarà da derivare anche l'altra questione Stelparo dove ci saranno da difendere quei tre punti sin cui conquistati c'è anche da pensare al prossimo turno visto che la formazione lenolese andrà ad Arce ad affrontare una squadra in forma al terzo posto in classifica che domenica scorsa vinta a Castro 3 a 1 e che sicuramente sarà un impegno probante per la squadra lenolese che vorrà misurarsi con una formazione di alta classifica poi la sfida interna contro il Pontinia che sicuramente dirà molto delle ambizioni salvezza che la formazione lenolese si potrà dovrà affrontare da qui fino al prossimo girone di ritorno spazio ora alla Manzi Itri per noi da Itri Antonio Capotosto in casa Manzi Giovanni Itri basterà l'arrivo di Alessio Di Marco per ottenere una salvezza che attualmente non sembra facile il prossimo avversario dei ragazzi di De Filippis si chiama Virtus Guarcino una squadra che in classifica a 19 punti e che domenica scorsa ha vinto sul campo del quotato Priverno una formazione che nelle prime giornate di campionato ha pareggiato a Danitella e poi superato tra le muramiche l'ostico Castro De Volci ha vinto scontri importanti per la salvezza con Lenora e il nuovo Coslatina pareggiando poi a Monte San Giovanni Campano una squadra che ha messo a segno i corpi importanti per la permanenza in categoria sarà l'ennesima montagna da scalare per il Manzi Giovanni Itri chiudiamo la pagina del calcio di promozione con il San Cosma e Damiano per noi da San Cosma il direttore generale Salvatore Capraro un'altra conferma che abbiamo ragazzi validi nonostante avevamo delle mancanze importanti a causa importunio abbiamo preso tre punti fondamentali in casa del Guarcino e questo ci fa salire sempre di più a livello morale domenica a tendere Manitrella squadra esperta della categoria sicuramente non da sottovalutare ma il nostro atteggiamento sarà sempre lo stesso prossimo turno per il campionato di promozione a Gironè quattordicesima giornata vediamo appunto Santi Cosma fuori i casi contro Castro De Volci città di Lenara Pontinia città Monte San Giovanni Campano Principato di Colli Nuova Costa Latina Acce Giar Cassino Latina Borgo Uniti Sporting Viettus Guarcino Manzi Giovanni Itri Sterparo FC Montenero Anitrella Riverno Calcio in terza giornata riposto San Giovanni in carico eccoci arrivati al campionato di prima categoria undicesima giornata sconfitte pesanti per Scauri Marina e Castelforte mentre il terci Rona vince con facilità contro Marola che ma scende in campo quindi evitare il tavolino SS Formi viene bloccata da posta Fibreno 0-0 Fondi Calcio Perde in casa contro la capolista Città di Cebrano e Polisportiva Gaeta Perde in casa contro l'armata 3-1 San Vittorio San Vittorio batte pesantemente la Don Bosco Gaeta andiamo alla classifica comanda sempre Città di Cebrano a meno di 10 c'è Belmond e poi c'è Fondi Calcio a 21 e a seguire tutte le altre formazioni Formi Calcio 20 Polisportiva Gaeta 17 armata 16 poi c'è più giù Don Bosco Greta 9 insieme a Castelfort Scauri Marina 8 chiude la classifica il Borolo con 3 E' il momento del Fondi Calcio per noi da Fondi Alberto Ciccarelli Fondi combatte lotta continua a palesare un po' il resto di crescita che ormai va avanti dalla prima giornata di campionato ma è costretto ad arrendersi ad amainare bandiera bianca al cospetto della capolista finisce 0-2 al Madonna degli Angeli vittoria dunque per gli ospiti l'undi la stima consecutiva il cittadino che dunque allunga inesorabilmente ormai in classifica Fondi e che torna a perdere dopo nuovi risultati utili una sconfitta nella quale però il rosso-bruno non hanno grossi demeriti meriti che meravano piuttosto la prima della classe che si è dimostrata essere tale considerato dunque di un passo indietro per i ragazzi allenati da Ernesto Montella si tratta ovviamente di un battuto del resto inevitabilmente dopo un filotto positivo che fa anche perdere la seconda posizione a vantaggio della Belmonte Castello che invece era stata battuta proprio con la Madonna degli Angeli e sopravanzata in classifica appena una settimana fa sconfitta però dalla quale si può e si deve ripartire cercando di trarne tesoro dalla lezione rimediata proprio contro la prima in classifica che si è dimostrata per propri meriti di un'altra categoria ma Fondi che per nulla ha demeritato e anzi dimostrato di sapersela giocare alla pari contro quella che in questo momento è inevitabilmente la più forte del campionato e si ripartirà dunque già da domenica nel dodicesimo turno di campionato con l'obiettivo di ritrovare i tre punti e di riprendere la marcia per la seconda posizione Fondi che sarà a spie del Castelforte e quart'ultimo a forza del torneo ma ovviamente squadra che in casa cercherà di dare più del 100% per ottenere punti importanti ora parliamo di Scauri Marina con il direttore sportivo Andrea Cogliandro domenica abbiamo una partita importante in casa contro una delle squadre dell'alta classifica speriamo di prenderci almeno il punticino per rimettere un po' la classifica a posto calcolando che poi fra un paio di domeniche si ferma tutto e si ritorna dopo Natale a iniziare un altro campionato ci stanno delle defianze delle squadre di qualche squadra però il campionato è ancora aperto noi puntiamo sempre una salvezza tranquilla pazio ora alla Formia Calcio con il direttore Mario Fionda buonasera a tutti Mario sono arrivato all'SS Formia Calcio il pareggio contro il posto Fibreno potrebbe indicare un appannamento nella visione della progettualità societaria ma fa parte di un percorso di crescita abbiamo creato tanto e concretizzato poco l'assenza del nostro bomber di razza Cenerelli si è sentita molto colgo l'occasione di salvare e ringraziare i calciatori che questa settimana ci hanno salutato i vari di Marco Rufino Fimiani Paglia Latiele e Fiorillo il merito di questa posizione in classifica è anche loro fino ad oggi ogni risultato è stato possibile grazie a un grande gruppo ma siamo arrivati a prendere questa decisione per poter intervenire sul mercato con una consapevolezza diversa e più concreta sono arrivati i profili importanti come Vincenzo Lamanna Giorno Gran Petronzo Alberto Reale e Giovanni Ramone profili di spessore che daranno sicuramente il loro grande aiuto alla causa domenica discuteremo una gara non importante ma bensì fondamentale per le sorti del nostro viaggio e del nostro cammino contro una squadra molto forte e bene organizzata con la Procalcio San Giorgio che sa sfruttare il fattore campo a proprio favore sono convinto che con la giusta concentrazione e mentalità faremo una grande partita una grande prestazione come chi del nostro presidente vi ringrazio come sempre buona serata grazie la chiusura di questa pagina di prima categoria è dedicata alla Polisportiva Gaeta 1931 per noi da Gaeta Erasmo Lombardi di Perna dodicesima giornata del campionato di prima categoria laziale Girone H per la Polisportiva Gaeta è arrivato il momento di incrociare la strada con la capolista delle capoliste pensate che in tutta Italia in tutti i gironi di prima categoria il Ceprano è la squadra migliore a livello nazionale con 11 vittorie in 11 partite 30 gol fatti e appena 6 subiti dunque davvero una corazzata e la Polisportiva Gaeta reduce dalla sconfitta interna contro l'ermada deve andare proprio sul campo ciociaro per sfidare la capolista non sarà facile ma certo a questo punto per il Gaeta c'è davvero poco da perdere visto e considerato che ormai sembra che il Ceprano sia avviato a un cammino trionfale verso il campionato di promozione l'ultimo precedente però è la vittoria della Coppa provincia di Frosinone nella terza categoria di due anni fa contro il Fumone giocata proprio a Ceprano il Gaeta vinse 3 a 1 conquistando la prima Coppa e il passaggio alla seconda categoria speriamo che il campo di Ceprano porti bene alla Polisportiva Gaeta che possa essere la prima squadra a bloccare questa capolista scatenata che davvero sta facendo cose incredibili dunque domenica a Ceprano si giocherà la partita tra Città di Ceprano e Polisportiva Gaeta 1931 dunque domenica alle ore 11 appuntamento allo stadio comunale di Ceprano per la sfida che la Polisportiva Gaeta lancerà alla prima in classifica del campionato di prima categoria regionale laziale Girone H un saluto a tutti voi da parte di Erasmo Lombardi di Perna ed eccoci a parlare del campionato di prima categoria con la Don Bosco Gaeta per noi da Gaeta il mister Ernesto Romano domenica affrontiamo il Belmonte che è una squadra in forma in condizione una delle migliori del Girone che ha sicuramente buoni elementi soprattutto nella fase offensiva e per noi non sarà semplice visto il momento che stiamo attraversando anche con qualche squalifica o infortunio anche se contiamo di recuperare qualche elemento quindi è un momento un po' così cercheremo ovviamente di fare il massimo sempre per poi portare a casa quello che è l'obiettivo l'obiettivo finale e quindi domenica abbiamo pagato un po' di inesperienza in alcune situazioni e quindi ci siamo ritrovati sotto poi purtroppo la partita si è complicata anche per altri per altri motivi e non siamo riusciti a dare seguito a quanto fatto nelle giornate precedenti chiudiamo con il calcio con la pagina della seconda categoria da Formia Davide Stagliano responsabile editoriale di Golfo Sport continua senza intoppi e senza soste la marcia triunfale del San Lorenzo nella parte alta della classifica del G1I della seconda categoria laziale la vittoria corsara formata da Borrelli e Guilari ottenuto sul terreno dello Greenfield United poi rietta sempre più i castelfortesi nella risetta cerica delle pretendenti al successo finale in virtù non solo di un bottino che ha parato in ben 20 punti fin qui portati all'incasso ma soprattutto di prestazioni importanti che denotano come la compagina allenata da Alessandro Auricchio abbia raggiunto una maturità ed uno spessore tecnico-tattico davvero considerevole da poter comprare ad armi pari contro qualsiasi avversario banco di prova più che attendibile sarà il prossimo incontro valevole per la decima giornata di campionato un incontro che opporrà la Virtus San Lorenzo alla 3 di Cocisterna formazione quest'ultima che occupa il terzo credito del podio con 17 punti all'attivo appuntamento importante di prestigio quindi per i castelfortesi che sulle ele dell'entusiasmo e sotto la spenza del pubblico di casa vogliono portare a casa un risultato importante per poter continuare a fare bene ed a sognare in grande e dopo il turno di riposo imposto dal calendario torna in campo il minturo 1936 a contendere i tre punti e rosso-blu ci sarà la solidale per un derby che a dispetto di quanto possa dire la classifica appare incerto ed aperto ad ogni risultato reduci dal pari casalingo tenuto contro il norma i formiani possono far leva sulla condizione decisamente apprezzabile sia da un punto di vista prettamente tecnico che da quello mentale in virtù di un inizio di stagione che potremmo definire assolutamente tranquillo i minturnesi hanno invece l'obbligo di mettere a casa l'intera posta non potendosi permettere di allontanarsi troppo dalla parte alta della classifica per non essere strommessi sin da subito dalla lotta al vertice ne verrà fuori sicuramente una contesa senza esclusione dei colpi con da una parte in gruppo che potrà scendere sull'rettangolo di gioco senza avere nulla da perdere i biancazzurri formiani e dall'altro una formazione che non può mirare ad alto risultato se non il successo pieno il pieno casalingo per la Vintex Gaeta che ospita la Riciniero Ladino Puglisi reduci dal brillante e quanto mai meritato pareggio conquistato nella tana del Cisterna grazie ad una rete del bomber Vattucci i bianconossi hanno il morale a altre lusse e dovute motivazioni per cercare di conquistare un successo che li potrebbe allontanare in maniera decisa dei basi fondi della gradatoria quasi di buono fatto in terra di Cisterna dovrà essere di stimolo per Di Gabriele e dei suoi ragazzi che hanno dimostrato in primis a loro stessi di potersi in misura alla pari con tutte le altre compagini del Girone contro i Nettunensi si deve innanzitutto dimenticare in fretta la buona prova di sette giorni fa anche perché giocando sui ricordi si potrebbe incorrere in qualche inconveniente decisamente spiacevole turno di riposo per i briganti Itri il cui inizio di campionato si può definire tutt'altro che positivo con la metà di sette punti fin qui ottenuti i ragazzi allenati da Pierpaolo Pennacchia si trovano a stetissimo contatto con la zona calda della classifica una posizione che rispecchia certo la bontà e le qualità della rosa Itrana ma nel calcio come nello sport in generale conto solo i numeri e fino ad ora i numeri parlano decisamente a sfavore degli arunci i quali sono chiamati quando ritorneranno in campo a procacciare punti per poter iniziare una lenta ed inesorabile risalita verso quella zona tranquillità anche per questa puntata è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento e per la prossima settimana